Come nasce questa remontata? Penso che siamo stati bravi a volerla vincere a tutti i costi, dopo la scompita di saldo siamo stati bravi a mettersi lì, dopo lì voglio sbagliare, non è facile rimanere concentrati e niente, penso che comunque tutto sommato la vittoria è verità. Come ti senti nel livello di venti, comunque la risposta del campo è stata sia alla Spezia che oggi è abbastanza buona. Artisticamente non sono al 100%, però comunque sono riuscito a portare la partita a termine, sono contento e spero di avere altre possibilità. Uno degli elementi che forse oggi ha caratterizzato la vostra aiutazione è il fatto che proprio tanti cambi in formazione non hanno inciso poi, o forse rispetto alla Spezia hanno inciso effettivamente, però non è cambiata la rendita sul campo rispetto anche ai miei successi dove c'era stata sempre la stessa formazione. Io vedo che comunque siamo una rosa ampia, il mister è vero, l'ho girato spesso, non ci sono sempre quei soliti, ma siamo tutti all'altezza per giocare, quindi se il mister decide di cambiare siamo tutti pronti. Che atmosfera hai trovato, generalmente? Un bello atmosfera, comunque anche quando siamo andati sotto sono sempre stati vicini a noi, ci hanno supportato e abbiamo visto una bella origine in casa. Lei di che per questa vittoria? Architelli comunque? Sì. Alla mia famiglia e ai miei ragazzi che comunque mi sono sempre stati vicini in altri momenti, insomma che non ho giocato, mi sono sempre stati vicini a noi. Bene, grazie. PIROTECNICA NAZIONALE PIROTECNICA NAZIONALE Ogni festa ha il suo sorprendente finale. PIROTECNICA NAZIONALE L'unica PIROTECNICA NAZIONALE Colora il cielo con fontane, candele romane, spara coriandoli, fuochi d'artificio da giardino. PIROTECNICA NAZIONALE Cura i migliori spettacoli pirotecnici per eventi e feste di piazza. PIROTECNICA NAZIONALE Cellulare 330 33 89 24 ... … … Grazie a tutti